I campionati internazionali di sollevamento pesi tedeschi e americani si sono disputati il primato passando dai 90 ai 95 e quindi ai 130 fino a raggiungere i 152 kg e mezzo del tedesco Manga, nuovo campione del mondo. Agregar la sc ma che arrière alle 51 e 30 kg il piano da stelle. Siamo abbiamo un po' di Angela Sì un po' di 100 km e 100,5 km In strano. La scuola. E' un po' di 3 Quer gewiss, erster preis, damit Weltmeister 1938, Monger Deutschland.